Proponiamo una serie dei nostri prodotti torinesi, a iniziare dal gianduiotto, ai cunesi, ai tartufini, alle nostre lastre. Dalle lastre di cioccolato al cremino, dai gianduiotti alle dolci sculture. Arezzo ospita in piazza Sai Jacopo la kermess più dolce, la festa del cioccolato, giunta alla sua quarta edizione. Qui abbiamo circa 15 espositori da tutta Italia. Partiamo da Lecco, qui c'è Torino, abbiamo la Sicilia, abbiamo Venezia, abbiamo un po' di città insomma. Le bancarelle con prodotti rigorosamente artigianali resteranno aperte sino a domenica 12 novembre dalle 10 a mezzanotte. Noi veniamo da Napoli, portiamo prodotti tipici, la sfogliatella, la frolla napoletana, il babà, la zeppola napoletana, tutte queste cose qua e in più abbiamo pure il cioccolato. Quali sono i prodotti preferiti delle persone? Insomma, cosa piace? Ma qua ad Arezzo ho visto che sono affrontati molto verso i cunesi e anche verso le lastre, verso il cioccolato al taglio. Fondente e al latte o bianco? Fondente, fondente. Frettamente fondente, devo dire più amaro sono, più amaro è più piace ad Arezzo. Sono dei buon gustai perché fondente è il cioccolato più prelibato che ci possa essere. Grazie. Grazie. Grazie.